Non è usuale e questo ormai è un dato certo e come tale non è semplice nemmeno capire con certezza le prossime tappe. Il Papa che lascia il soglio pontificio in vita lascia tutti sorpresi. Il primo ad ammetterlo davanti ai giornalisti è il direttore della sala stampa della Santa Sede, padre Federico Lombardi. Non è richiesto a nessuno accettare o rifiutare le dimissioni di un Papa, quindi di fatto dalle 20.01 del 28 febbraio Papa Ratzinger lascerà il suo ruolo senza altro aggiungere. Ma si può fare? Era la domanda che correva tra la gente. Sì, si può, come ha detto lo stesso Ratzinger tempo fa. E adesso che succede? Il conclave si riunirà per decidere il nome del nuovo Papa. Per volere di Papa Giovanni Paolo II ci saranno tre fasi nello scrutinio per l'elezione. C'è un pre-scrutinio, di fatto una fase organizzativa di schede, scrutatori e revisori sorteggiati dalla totalità. La seconda fase è di controllo delle operazioni. Per esempio è necessario che la scheda riporti il testo. Eligo insummo un pontificem e il nome del cardinale votato e poi lo scrutinio vero e proprio secondo questa formula. Chiamo a testimoniare Cristo Signore il quale mi giudicherà che il mio voto è dato a colui che secondo Dio ritengo debba essere eletto. Poi la conta dei voti annotati su un foglio. L'ultimo degli scrutatori man mano che legge le schede le perfora con un ago nel punto in cui si legge la parola Eligo e le inserisce in un filo affinché possano essere conservate in maniera più sicura. Al termine della lettura dei nomi i capi del filo vengono legati con un nodo e le schede vengono messe in un recipiente. A questo punto inizia la fase post-scrutinio che comprende il conteggio dei voti e il controllo. A questo punto vengono bruciate le schede. Se nessuno ha raggiunto due terzi dei voti in quella votazione non c'è il nome del Papa. Come spiegato da padre Lombardi, Josef Ratzinger non parteciperà al conclave. Si trasferirà in un primo momento a Castel Gandolfo, sede estiva del Pontefice e successivamente in un ex monastero di suore di clausura in Vaticano, Mater Ecclesie, struttura voluta proprio da Papa Giovanni Paolo II. Laura Ceccherini, Sky TG24